Enrico Laga nei giorni scorsi ha lanciato una proposta un po' provocatoria riguardante lo spostamento del mercatino del mercoledì in pieno centro storico. Una proposta che ha suscitato comunque un dibattito molto vivace. Sono molto felice che questa proposta che non è provocatoria ma che deriva dall'esperienza in confcommercio e dall'avere discusso a lungo con i pianificatori che si sono posti il problema molto prima di noi in città molto più importante della nostra in cui è emerso un dato scientifico. Non siamo nel novero delle probabilità o delle provocazioni, siamo all'interno di un quadro che è scientificamente provato. L'alleanza tra i commercianti tradizionali e i mercatini è una elisir di economia, di sprovvivenza, di sviluppo che consentono di incrementare i flussi pedonali in zone commerciali e consentono ai negozianti di fare buoni affari. Il tema è molto affascinante perché se qualcuno pensa che questa iniziativa sia fatta per favorire gli ambulanti si sbaglia. Questa iniziativa è fatta per favorire i nostri commercianti. Qualcuno ha parlato di spacchettare il mercatino in varie parti della città. Sarebbe un errore strategico nel senso che questi mercatini funzionano nella misura in cui hanno capacità di attrarre un flusso di acquirenti sui più disparati settori merceologici e quindi funzionano perché non hanno soluzioni di continuità, nel senso che non sono separati, divisi. È un errore madornale quello di interrompere questo flusso pedonale. Ora voi immaginate, così si capisce anche qual è l'idea, è perché la proposta è o lo lasciamo dov'è o lo riportiamo in centro. Altrimenti qualsiasi altra soluzione è una soluzione pasticciata che non fa che ricalcare gli errori del passato. Il tema è appunto costruire una piattaforma che porti migliaia di persone tutti i mercoledì in città che promuova un mercatino come Portobello Londra, come Camden Town, come i mercatini che sono famosi nel mondo e che insomma solleciti i visitatori sardi a fare un'escursione in città per visitare oltre alle grotte di 21 anche questo poderoso mercatino che voglio ricordarlo è il più importante che si svolge in Sardegna. è il più autorevole, il più importante. Allora io lo immagino così, la parte più tradizionale, più autentica, più evocativa dei saperi e dei sapori della Sardegna ha ridosso il centro storico, nel senso che partendo da Piazza Sulis, salendo per Piazza Pino Spiras baciando, adagiandosi sui due mercati civici, proseguendo per la via Sassari quindi dove c'è Ciro, dove ci sono i nostri negozianti, la motosport e poi salendo, svoltando a sinistra, verso via 20 settembre fino ad arrivare al liceo scientifico. Ora il tema qual è? È quello di pianificare con intelligenza e con competenza questa iniziativa. Non lo può fare Enrico Daga, non lo fa un dirigente dell'amministrazione ci sono società di, come dire, advisor, chiamate così, che hanno fatto questi grandi sforzi in città molto importanti in Sardegna, dove vanno contemperate tutta una serie di soluzioni a partire dalla dimensione dei mezzi, per proseguire con l'orientamento dei mercati. A questo voglio aggiungere anche il fatto che questo mercatino dovrà anche innovare dovrà anche proporsi in una maniera più sfiziosa e quindi inserire, vedo l'inserimento delle produzioni del parco, dei prodotti del parco in una apposita area del mercatino quindi i nostri operatori dell'agro che vendono i loro prodotti dentro il mercatino e propongo anche di ospitare le Proloco e tutte quelle realtà, quei comuni della Sardegna a rotazione che possono venire tutti i mercoledì di mattina a darci una mano a fare questa festa del gusto, della vista e del tempo libero per i nostri visitatori, per i nostri turisti distanziani ma anche per quelli che verranno da tutta la Sardegna, sono certo in questo mercatino che dovrà avere un marchio, dovrà avere una sua promozione, una sua identità all'interno del quale tutti i mercoledì ci dovrà essere qualcosa di particolare, di frizzante penso a della musica, ad un concerto, delle degustazioni fatte ai mercati con le cantine e i vittivi vinicole della Sardegna insomma, un attrattore forte, formidabile che può veramente cambiare la faccia e il volto di questa nostra città, del nostro centro commerciale, del nostro centro urbano grazie a tutti